Quando Peggy ha iniziato a sentirsi male durante un turno di lavoro, non poteva immaginare qual era davvero la causa dei suoi sintomi. Il suo cuore sembrava esplodere, le gambe le formicolavano e cominciava a sentire diversi dolori in tutto il corpo. Era preoccupata, ma non aveva idea di cos'era davvero successo. A sua insaputa, qualcosa di terribilmente diabolico stava per colpire sia lei che la sua intera famiglia. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E anche oggi voglio parlarvi di una storia ambientata negli Stati Uniti. Ormai lo sapete, lì sono accadute le cose veramente più strane, inquietanti, misteriose di sempre. Oggi in particolare vi porto in Florida, un posto con un clima tropicale, in cui gli inverni sono miti e brevi e le estati sono lunghe e calde. E poi c'è Miami ovviamente, famosa per le sue lunghe spiagge di sabbia bianca e la movida notturna. Gli eventi che vi voglio raccontare però non sono accaduti a Miami, bensì per gran parte ad Alturas, che si trova nella Florida centrale. Un piccolo, minuscolo paesino di circa 4.000 abitanti. Un altro di quei posti in cui non succede mai niente e tutti si conoscono. Questa narrativa sta diventando un po' troppo comune e sinceramente mi spaventa perché io abito proprio in uno di quei paesini dove non succede mai niente e tutti si conoscono. Comunque, prima di addentrarci del tutto nella storia che voglio raccontarvi oggi, voglio parlarvi di Pampling. Voglio ricordarvi che su Pampling trovate tutte le magliette che indosso nei video, come questa qua che è la mia preferita. Bellissima. Nel sito hanno veramente di tutto, con tutte queste grafiche carine e simpatiche. A tema sia anime che horror. Ce ne sono alcune, fanno straridere. Ci sono sia magliette che felpe, zaini, penne, c'è qualsiasi cosa, quindi andate a dare un'occhiata. Se prendete qualcosa ricordate di mettere il codice Andrew, grazie al quale vi daranno anche delle calze a vostra scelta, totalmente in omaggio. Detto questo, dovete sapere che la protagonista di questa storia è Peggy Carr, una donna di mezza età che ne ha passate davvero tante nella vita. Nel corso delle vicende però vedrete che l'intreccio diventa particolarmente complesso. Iniziamo. Peggy Carr nasce nel 1947 in una piccola cittadina rurale della Florida centrale. Entrambi i suoi genitori purtroppo sono sordi e la famiglia in generale vive nella povertà direi estrema, quindi fin dalla giovanità Peggy è costretta a lavorare. Si tratta per la maggior parte di lavoretti sottopagati o ritenuti pericolosi per una giovane ragazza come lei. Parliamo di cose come i turni notturni in distributori di benzina su autostrade deserte negli Stati Uniti, quindi potete immaginare. Peggy nonostante questo accetta praticamente qualsiasi lavoro le venga proposto perché sa che lei e la sua famiglia hanno bisogno di soldi sostanzialmente. Quindi raramente si lamenta della sua condizione, finché riesce a trovare un lavoro, qualsiasi esso sia, lei è contenta. Ovviamente questo rinforza molto il suo carattere e ogni volta che si ritrova a lavorare in un ambiente un po' pericoloso, tra virgolette, assume intenzionalmente un atteggiamento da ragazza forte, autoritaria, così da evitare che qualcuno si approfitti di lei. Nonostante la sua bassa statura e la sua evidente fragilità, Peggy si guadagna in fretta una reputazione da ragazza dura. Quindi mentre questo aspetto da ragazza intoccabile la protegge da potenziali molestatori o persone pericolose, da un lato, allo stesso tempo dall'altro lato la allontana anche da potenziali uomini che invece hanno buone intenzioni. Vorrebbero magari corteggiarla, invitarla ad uscire, passare una serata con lei, tranquilla. Nonostante tutti si sentano abbastanza intimiditi da lei, alla fine un uomo riesce a fare breccia nel suo cuore e a conquistarla. E così Peggy si sposa con lui e mette al mondo ben tre figli. Sì, così di botto, perché in realtà non sappiamo molto su questo periodo della sua vita. Sinceramente non sono neanche riuscito a trovare il nome di questo marito, anche perché come vedrete tra poco è davvero poco rilevante ai fini di questa vicenda, quindi viene omesso o talvolta neanche menzionato. A metà degli anni Ottanta, infatti, la magia tra i due si spegne per sempre e il matrimonio finisce. Così Peggy si ritrova a essere una trentenne single, divorziata e madre di tre figli adolescenti. Per arrivare a fine mese, fa gli straordinari in un ristorante locale, continuando ad assumere questo aspetto e comportamento da dura lavoratrice, donna forte e indipendente. Quando arriva a casa, però, il suo comportamento e il suo atteggiamento diventano quelli reali, quelli di come era davvero lei. E i figli notano che la mamma è triste, è molto stanca. La vita era stata molto dura con lei e Peggy aveva l'impressione di non riuscire a fornire ai suoi figli tutto ciò di cui avevano realmente bisogno. D'altro canto, però, loro non provavano sentimenti negativi nei suoi confronti, né per via del divorzio, né per la situazione economica precaria in cui erano costretti a vivere. L'unica cosa che provavano era la tristezza per la loro madre, perché gli addolorava tantissimo vederla così triste e impotente di fronte ai suoi problemi. La loro speranza, in quel momento, era che si innamorasse di nuovo così da avere un aiuto economico, ma soprattutto un aiuto emotivo, di cui sentivano avesse bisogno. Volevano vederla di nuovo felice e innamorata di qualcuno. E alla fine del 1987 questo è esattamente ciò che accade. Quell'anno Peggy conosce un uomo di nome Perry Ellen Carr, chiamato da tutti semplicemente Pai. E anche noi lo chiameremo così. Pai è un uomo che somiglia molto a Peggy. Anche lui è un padre single divorziato con due figli adolescenti a carico e proprio come la donna era stato costretto a lavorare fin dalla giovane età e aveva un carattere molto forte. Non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno. Nel periodo in cui si sono conosciuti, Pai viveva con i suoi due figli adolescenti ad Alturas, la piccola cittadina che vi ho menzionato all'inizio. L'uomo lavorava come capocantiere in un'azienda del posto che si occupava di estrazione di fosfato, una sostanza chimica che ha diversi usi per l'agricoltura industriale, dato che viene utilizzato come fertilizzante. Insomma, Peggy e Pai si conoscono, cominciano ad uscire insieme, si trovano davvero bene e lei torna finalmente ad avere un sorriso stampato sul volto. I primi a notare questo cambiamento improvviso sono ovviamente i suoi figli, che nonostante tutto il duro lavoro e le difficoltà economiche della loro madre ricominciano a vederla felice. Peggy e Pai sembrano subito avere un'intesa così forte che a poca distanza dal loro primo incontro, esattamente due mesi dopo, nell'aprile del 1988, i due si sposano. I figli di entrambi sono super entusiasti della notizia perché questo voleva dire avere di nuovo una famiglia unita, e anzi ancora più grande, una famiglia allargata. Erano proprio felici. I due quindi non perdono tempo e subito dopo il matrimonio, Peggy e i suoi tre figli si trasferiscono ad Alturas insieme a Pai e ai suoi altri due figli. La donna, ora, è finalmente di nuovo al settimo cielo. Sente di avere una grande famiglia unita, e per lei questo rappresenta a tutti gli effetti un nuovo inizio molto promettente. Nonostante la casa in cui vanno a vivere non fosse grandissima, anzi era abbastanza piccola, i membri della famiglia vanno molto d'accordo e creano un'energia fortissima all'interno dell'abitazione. Nel complesso la casa sembra davvero scoppiare di vita con cinque ragazzi giovani e una coppia innamorata al suo interno. Tuttavia la grande infatuazione che inizialmente aveva colpito i coniugi ha lasciato subito spazio, e posto, ai tipici problemi coniugali. È come se tutta la chimica iniziale si fosse velocemente e completamente stravolta a causa dell'arrivo della routine e della monotonia che qualsiasi matrimonio porta con sé, qualsiasi convivenza in realtà porta con sé. I due si ritrovano molto presto a litigare spesso, si rinfacciano le cose, si prendono a parolacce, e questo crea parecchia tensione anche tra i figli e non solo tra di loro, perché ovviamente i figli di lei si schierano con lei e i figli di lui con lui, quindi creano anche astio proprio tra di loro. Oltre a questo però, cosa più importante, comincia anche a girare la voce secondo cui Pai tradiva Peggy con una delle sue ex fidanzate. L'uomo ha sempre negato tutto fin dall'inizio, ma trovandosi in una piccola cittadina in cui le voci girano in fretta, le persone hanno cominciato a parlare solo di questo presunto tradimento. E anche per questo Peggy non riesce più a darsi pace, e continua a tormentarsi al pensiero che suo marito la stesse tradendo. I litigi quindi peggiorano sempre di più, diventano sempre più intensi e sempre più frequenti, cosa che fa presagire a tutti un divorzio imminente. Questo però non accade, perché prima ancora che il loro matrimonio potesse andare in frantumi, succede qualcosa di inaspettato che farà quasi andare in frantumi l'intera famiglia, non solo loro due. Arriviamo quindi alla fine dell'ottobre del 1988. Sono passati esattamente sette mesi dal giorno in cui Peggy e Pai si erano sposati. E una mattina l'uomo si alza e dice alla moglie che sarebbe andato a fare una battuta di caccia, e che sarebbe rimasto fuori praticamente tutto il giorno. Immaginate ovviamente che i due in quel periodo stavano vivendo appunto un periodo di grande crisi, sembrava che la separazione non fosse lontana. Quindi Peggy, ormai rassegnata, cioè non si oppone minimamente, non gliene frega, anzi dice a Pai, di andare tranquillamente e godersi la giornata, probabilmente però pensando che sarebbe andato in realtà a tradirla. Però vabbè, ormai era abituata a questi pensieri, quindi insomma ha fatto finta che non gliene fregasse nulla. A fine mattinata, Peggy e sua figlia Sissy si dirigono in centro per andare a lavoro, perché entrambe lavoravano nello stesso posto, più di preciso facevano le cameriere in una piccola tavola calda. Così le due arrivano al locale, si cambiano e iniziano il loro turno come al solito. Non molto tempo dopo, Peggy stava per avvicinarsi a uno dei tavoli che stava servendo, quando all'improvviso si rende conto che il suo cuore stava battendo a un ritmo troppo veloce. E non c'era nessun motivo per cui avrebbe dovuto battere così all'impazzata. Non era agitata, non era successo nulla, quindi era estremamente strano. Tuttavia inizialmente la donna cerca di ignorarlo, pensando che sarebbe passato dopo un po'. Classico pensiero che facciamo tutti quando sentiamo dei dolori strani. Facciamo finta di nulla, almeno per un po'. Ma al contrario, nel suo caso la tachicardia peggiora. Il cuore le batte sempre più velocemente, fino a farle avere l'impressione che le stesse proprio per scoppiare nel petto. La donna quindi si allontana dalla sala del locale e si rifugia nel bagno del personale. Si chiude in uno dei box, si siede e poggia una mano sul petto facendo respiri profondi, nella speranza di far tornare i battiti del cuore a un ritmo normale. Ma mentre è seduta, non solo il suo cuore continua ad accelerare, ma le sue gambe e le sue braccia cominciano anche a formicolare. Le viene subito in mente che poteva trattarsi di un attacco di cuore, ma dato che non era mai stata una persona ansiosa o inclina a farsi prendere dal panico, la donna si alza, con fatica, tremante, va al lavandino e si lava sia le mani che il viso. Si dà, insomma, una rinfrescata, dopodiché torna in sala e dice a sua figlia che non si sentiva bene, quindi sarebbe tornata a casa per riposare un po'. Le dice anche che se i sintomi fossero peggiorati sarebbe sicuramente andata in ospedale. Sì, sì, però a quel punto si preoccupa infinitamente perché conosceva sua mamma. Lei non stava mai male, o almeno sopportava sempre e non diceva mai a nessuno di stare male. Quindi se arrivava al punto di ammettere che non riusciva a lavorare dal dolore, allora c'era davvero qualcosa che non andava. Peggy, ancora con gli arti formicolanti e il cuore a mille, dice a sua figlia di non preoccuparsi e di continuare con il suo servizio. Così la donna torna a casa, si dirige in camera da letto e si sdraia per cercare di riposare un po'. Nel pomeriggio, uno dei figli di Peggy, Dwayne, torna a casa dal liceo. Quando nota che sua madre è sdraiata sul letto, si stranisce immediatamente. Lei infatti non faceva mai pisolini, neanche quando aveva la febbre o quando stava male. Così il ragazzo decide di svegliarla per sapere se fosse tutto a posto. Ma quando Peggy si volta verso di lui, Dwayne quasi si spaventa per un attimo, perché la donna aveva il volto completamente pallido e sudato, mentre stringeva i denti in una smorfia di dolore. Non stava dormendo, era solo lì con gli occhi chiusi che soffriva. Il figlio quindi le chiede se andasse tutto bene, e lei in risposta rivela di non essere mai stata così male in vita sua. Gli dice di sentire come se qualcuno le stesse iniettando del fuoco nelle vene. E il ragazzo sapeva benissimo che sua madre non era il tipo di lamentarsi per cose banali o fare queste scenate, così si allarma subito anche lui. Dice a Peggy di andare assolutamente e immediatamente in ospedale, altrimenti avrebbe chiamato lui un'ambulanza. Ma la donna gli dice di voler restare a letto. Intanto mentre i due discutono sul chiamare i soccorsi o meno, Pai fa ritorno a casa. E non appena l'uomo entra in casa, Dwayne si precipita subito da lui, gli spiega cosa è successo a Peggy, e insiste sul fatto di chiamare subito un'ambulanza. All'inizio Pai non sembra prendere sul serio le parole del figliastro e cerca di rassicurarlo dicendo che probabilmente si trattava solo di un po' di febbre. Ma non appena entra in camera e vede sua moglie sul letto contorcersi dal dolore, si convince anche lui che era necessario andare in ospedale. E sapete che negli Stati Uniti andare in ospedale può essere un problema, costa. Forse per quello era riluttante all'inizio, però no, stava veramente tanto male. Quindi se ha deciso di portarla all'ospedale, vuol dire che si vedeva che stava molto male. Pai quindi prende letteralmente in braccio Peggy e la porta finalmente al pronto soccorso. Quando la donna arriva sotto le cure di un medico, non riesce nemmeno più a parlare. Riesce solo ad emettere versi di dolore, mentre il suo cuore continua a battere all'impazzata. In aggiunta a ciò comincia anche ad avere sintomi come nausea e vomito. Mentre Peggy è sotto flebo, il dottore si dirige da Pai, Dwayne e gli altri membri della famiglia che intanto li avevano raggiunti all'ospedale. Chiede loro se la donna avesse già avuto reazioni simili in passato, se si fosse mai sentita così male. E ovviamente i figli spiegano la situazione. Gli dicono che la loro mamma era sempre stata una roccia. Non era il tipo di persona che fa una scenata simile per un'influenza o condizioni tutto sommato leggere. Se diceva di stare così male e se aveva quei sintomi, doveva essere qualcosa di molto grave. I medici quindi non capiscono. Iniziano a sottoporlo a ogni tipo di esame e di test, ma i risultati si rivelano tutti negativi. Non risulta nessun valore sballato. Per cui decidono di lasciare la donna sotto flebo e sperare in dei miglioramenti, continuando ovviamente a fare esami su esami. Nel giro di tre giorni poi, i sintomi di Peggy sembrano finalmente migliorare. All'ultimo giorno la donna riesce addirittura a mangiare di nuovo, a parlare e bere in autonomia. E nonostante senta ancora un po' di formicolio agli arti, nel complesso sembra stare bene. Sicuramente molto meglio di quando era arrivata. Per questo, considerando ovviamente gli esiti negativi degli esami, viene dimessa dall'ospedale. Così lei e la sua famiglia fanno ritorno a casa. Tuttavia, dopo appena 24 ore, il cuore di Peggy ricomincia a battere fortissimo. E le sue braccia e le sue gambe ricominciano a formicolare intensamente. La donna questa volta decide di non tornare in ospedale, anche perché i medici non avevano trovato nulla dalle analisi. Era convinta che, riposandosi a casa, avrebbe recuperato le forze. Proprio come era successo nei tre giorni in ospedale. Cioè, secondo lei, doveva solo riposare. Forse l'ha pensato, sempre per il discorso che costa un sacco. Già quei tre giorni in ospedale non so quanto possono essere costati. Questa roba è veramente allucinante. Vabbè. Quindi passano i giorni, ma i sintomi di Peggy continuano ad esserci e anzi addirittura a peggiorare di nuovo. Ad un certo punto la donna si ritrova costretta a letto a dimenarsi e a urlare dal dolore. Qualsiasi cosa facesse, qualsiasi movimento, anche il solo atto di respirare, le provocava un dolore atroce. Non era una situazione normale. Per niente. Così il 30 ottobre, quindi dieci giorni dopo rispetto alla prima volta in cui aveva avvertito i sintomi, la sua famiglia chiama di nuovo l'ambulanza. Lei viene riportata in ospedale, dove vengono effettuati di nuovo tutti i test possibili e immaginabili e questa volta viene anche fatto un esame per un presunto avvelenamento. Pure questo però, purtroppo, risulta negativo. I medici non possono fare nulla se non monitorare la situazione e provare ad alleviare i sintomi della donna. Dicono quindi ai familiari che l'avrebbero tenuta in una stanza d'ospedale per monitorarla e vedere come si sarebbero evoluti i sintomi. Quella notte Peggy continuò ad urlare in continuazione dal dolore e il mattino seguente la situazione sembrerà peggiorare ancora. Qualsiasi cosa avesse Peggy sembrava essere contagiosa. Sia Dwayne, il figlio di Peggy, che Travis, un figlio di Pai, vengono ricoverati in ospedale con gli stessi sintomi della donna. Cuore che batte all'impazzata, nausea, vomito e arti formicolanti. I medici effettuano gli stessi test e esami anche su di loro, ma anche nel loro caso non trovano nulla. Arrivati a questo punto, un neurologo dell'ospedale decide di prendere a carico la situazione, per fortuna. Controlla ogni singolo test effettuato ai membri della famiglia e ricontrolla anche tutte le radiografie. Dopodiché decide di seguire un'ultima pista e di effettuare un test abbastanza inusuale. Questo test non viene mai utilizzato, se non in casi rarissimi. Tuttavia i medici del reparto si mettono subito all'opera e il giorno dopo arrivano i risultati. Risultati che rivelano che sia Peggy che Dwayne e Travis risultano positivi per la condizione che il neurologo aveva ipotizzato. Non voglio rivelarvela subito, poi vedrete. Comunque per fortuna c'era anche una cura per questa condizione. Per Peggy però purtroppo era troppo tardi. I medici le fanno sapere che ormai il suo corpo era troppo devastato e che l'unica cosa che potevano fare era cercare di attenuarle il più possibile il dolore, fino al momento della morte. Per i ragazzi però c'era ancora la possibilità di fare qualcosa. Poco dopo la terribile notizia, la donna entrerà in coma e quattro mesi dopo, il 3 marzo del 1989, i membri della famiglia decideranno di far staccare la spina che la teneva in vita. Dwayne rimarrà ricoverato in ospedale per due mesi e si riprenderà completamente, mentre Travis rimarrà ricoverato per sei mesi e non riuscirà più a camminare come prima. Ora tutti sapevano qual era la condizione che aveva fatto stare così male i membri di quella famiglia, ma nessuno sapeva perché fosse successo e come. Poco dopo la morte di Peggy però, il mistero che avvolge questa storia comincia pian piano a svanire. Tenendo a mente tutto ciò che vi ho raccontato, dobbiamo necessariamente parlare di altre persone e altre dinamiche che si sono scoperte nel corso delle indagini. Dovete sapere che esiste un'organizzazione internazionale chiamata Mensa. Questa organizzazione è una sorta di società in cui per entrare bisogna fare un test del quoziente intellettivo. E i requisiti sono molto semplici, bisogna rientrare nel 2% della popolazione mondiale con il più alto quoziente intellettivo. Ciò significa che bisogna avere un punteggio minimo di 148, che è molto alto. E ad Alturas, ovvero la stessa cittadina in cui vivevano Peggy e Pai, c'era una piccola organizzazione locale del Mensa. L'obiettivo di quella società in particolare, e in quegli anni, era riunirsi ogni mese e svolgere attività che fossero intellettualmente stimolanti. Di solito ci si ritrovava in qualche luogo privato e si partecipava a quello che viene chiamato un Weekend con Murder Mystery. Una sorta di cena con delitto. In sostanza, uno dei membri si inventava un caso irrisolto di omicidio, e gli altri dovevano risolverlo nei panni di questo o quel personaggio. I partecipanti si incontravano in un posto che poteva essere una locanda, un hotel, un motel o una capanna, e iniziavano ad indagare su un presunto omicidio. Uno o due membri del Mensa inventavano appunto il caso molto elaborato, perché ricordate erano dei geni, erano tutti con il quoziente intellettivo altissimo. Quindi si inventavano sempre questi casi molto elaborati, difficili da risolvere. Assegnavano diversi personaggi e ruoli a ciascuno dei membri, e quando ognuno di loro entrava nella parte, il gioco poteva iniziare. Oltre ad essere un'attività intellettualmente molto stimolante, era anche molto divertente per i partecipanti. Ed era un modo come un altro per incontrarsi e riunirsi tra menti affini. Ora, solo un paio di settimane dopo la morte di Peggy, quindi nell'aprile del 1989, una donna di nome Sherry Gwyn fa il suo arrivo ad Alturas. La sua storia è molto tormentata. Sherry viene dal Texas, e al momento degli eventi è in fuga dal marito violento. La donna fa subito amicizia con l'intero quartiere, perché è molto solare, è estroversa, riesce insomma ad entrare in sintonia con le persone molto facilmente. E scopre velocemente dell'esistenza del Mensa. Quindi, trovando interessanti le attività svolte in quel gruppo, chiede se fosse possibile partecipare a quei weekend murder mystery. E un po' per simpatia, un po' per pena immagino, glielo permettono. In particolare si notava subito che Sherry avesse voglia di legare in particolare con due membri dell'organizzazione. Diana Carr, che non ha alcun legame familiare con la famiglia di Peggy, e George Trepal. Diana Carr è la moglie di George, un chirurgo ortopedico abbastanza conosciuto, che aveva il suo studio ad Alturas. La coppia viveva proprio accanto alla casa di Peggy e Pye. Sherry, insomma, fa di tutto per stringere i rapporti con loro, ed entrambi pensano che fosse normale che una donna sola, scappata dal marito violento, avesse voglia di dimenticare in fretta la sua vita passata e ricominciare dall'inizio, conoscendo persone nuove, e entrandoci molto in sintonia. Aveva bisogno proprio di un aiuto emotivo. E, pensate un po', lo stesso mese in cui Sherry arriva in città, tocca proprio a George e Diana elaborare il nuovo caso di omicidio per il fine settimana. La coppia quindi si mette subito al lavoro. In particolare George sembra essere davvero entusiasta di essere l'ideatore di questo nuovo caso irrisolto, e si mette di impegno per elaborare ogni minimo dettaglio. Modalità del delitto, prove, sospetti, tutto è necessario per rendere il caso il più difficile possibile da risolvere. E con la sua mente geniale, aiutata dalla mente altrettanto geniale di sua moglie, crea un caso davvero intricato. I due inventano questo scenario molto complicato di cui vanno subito tanto fieri. Così, arriva il fine settimana, ovvero il momento di partire con il gioco, e i coniugi stampano tutti i fogli contenente le informazioni sul caso. Informazioni come chi avrebbe fatto la parte di chi, la dinamica del caso, del gioco, l'uso dei costumi, eccetera. Tutte le informazioni, insomma, per giocare. Dopodiché si dirigono fino al luogo d'incontro, dove si ritrovano con gli altri membri dell'organizzazione, che ovviamente comprendeva anche Sherry, la nuova arrivata. George e Diana distribuiscono subito i loro fogli con tutte le informazioni relative ad ogni giocatore, e tutti rimangono subito meravigliati su quanto fosse ben costruito ed elaborato il caso. Caso che George ha definito come il crimine perfetto, il delitto perfetto. Lui esprime subito il suo orgoglio per aver creato dinamiche così complesse, e mette in guardia tutto il resto del gruppo dicendo che sarebbe stato molto difficile da risolvere. In tutto ciò, Sherry rimane particolarmente colpita dall'arma del delitto usata per l'omicidio. Va da George e inizia a fargli un sacco di domande a riguardo. Lui all'inizio rimane un po' sorpreso che lei fosse così interessata al caso che aveva messo in piedi, ma dall'altro lato si è sentito lusingato che qualcuno avesse notato quanto era elaborato il suo progetto. Così l'uomo in quel momento inizia a fornire tutti i dettagli possibili e immaginabili su questa particolare arma del delitto, su quali effetti ha sul corpo umano, sul come ottenerla e sul quale fosse la sua origine. Sherry per tutto il tempo rimane completamente incantata dal fascino di quest'arma, e ascolta ogni minimo dettaglio fornito da George. Purtroppo non sappiamo come sia finito il weekend, non sappiamo se qualcuno ha vinto questo gioco né tantomeno i dettagli di questo delitto perfetto sarebbe stato interessante. Fatto sta che comunque il weekend si conclude e tutti i membri del mensa tornano ognuno nella propria casa. Nel corso dell'anno che sarebbe venuto, Sherry Gwynn entra totalmente a far parte della vita di George e Diana, e rimane una costante per tutto quel tempo. Li chiama spesso, vuole passare tanto tempo con loro e sembra molto interessata a conoscerli davvero, ad essere amici. In particolare esprime una forte ammirazione per George, soprattutto da quando aveva trascorso con lui il weekend del gioco col delitto. Continua a tirare fuori quella particolare arma del delitto che aveva inserito nel suo caso inventato, e lui non può che esserne felice. Si sente ovviamente molto intelligente per aver escogitato il delitto perfetto, e ogni volta che lei tira fuori l'argomento lui è contento di assecondarla. Quello che George non sa è che Sherry non è proprio chi dice di essere. Nel dicembre del 1989, quindi circa otto mesi dopo che George e Diana hanno escogitato il delitto perfetto nel gioco, la coppia aveva deciso di trasferire lo studio medico da Alturas ad una città molto vicina chiamata Sebring. Così avevano pensato che fosse meglio trasferirsi lì, in modo da essere più vicini allo studio. Quando Sherry scopre che la coppia stava per trasferirsi, chiama subito George e gli chiede se ci fosse la possibilità di non vendere la loro casa, ma di darla in affitto a lei, così avrebbe potuto vivere lì e prendersi cura della loro abitazione. La coppia già pensava di non mettere in vendita la casa, così decide di lasciare la possibilità alla donna di restare in affitto per qualche mese, poi valutare se sarebbe potuta essere una soluzione a lungo termine. Cioè, in fondo la conoscevano, si fidavano di lei, quindi perché no? Arriva così il giorno del trasferimento. Sherry si presenta di mattina davanti alla casa di George e Diana, dove le vengono consegnate le chiavi. I due prendono le ultime cose essenziali, salutano Sherry e dicono di chiamarli per qualsiasi necessità e partono. Non passano nemmeno due ore dall'arrivo di Sherry in quella casa che l'intero dipartimento di pulizia di Alturas si precipita lì. L'abitazione viene circondata da agenti e a questo punto vi starete chiedendo cosa cavolo sta succedendo e soprattutto cosa c'entra tutto questo con la morte di Peggy. Ecco, ora vi spiego. Un paio di giorni prima che Peggy iniziasse a sentirsi male, qualcuno aveva messo otto bottiglie di Coca-Cola in vetro all'interno di casa sua. Le bottiglie si trovavano in un angolo della dispensa in cucina e quindi i membri della famiglia le hanno scoperte solo un paio di giorni dopo, ma ovviamente nessuno si è chiesto chi le avesse comprate. La famiglia era numerosa e nessuno si è fatto domande. Era Coca-Cola alla fine, qualcuno l'aveva comprata, boh, fine. In poco tempo quindi i membri della famiglia hanno iniziato a bere da queste bottiglie di Coca-Cola e Peggy in particolare, che era nota per essere una grande amante di questa bibita, beve molto di più di chiunque altro. Quello che i Carr non sapevano però era che ogni singola bottiglia di Coca-Cola era stata a mano messa. Tutte le bottiglie contenevano una dose significativa di taglio, un metallo pesante in odore, in colore e in sapore. Il taglio è dannoso e nocivo per l'organismo umano. Si distribuisce rapidamente attraverso l'apparato circolatorio e arriva nelle cellule e nei tessuti. Interferisce con il metabolismo cellulare perché si sostituisce al potassio, che è un elemento essenziale per molte reazioni necessarie nel nostro organismo. Per questo interferisce in maniera pesante anche a livello di sistema nervoso e insomma è un elemento davvero tossico e pericoloso per gli esseri umani. Quindi quando Peggy è stata ricoverata in ospedale per la seconda volta, nello stesso periodo in cui sono stati ricoverati anche Dwayne e Travis, il neurologo che li stava osservando ha notato qualcosa di particolare nella loro condizione, ovvero la caduta dei capelli. E' in quel momento che gli è tornato in mente un dettaglio importante che aveva imparato durante la sua formazione medica. Un sintomo dell'avvelenamento da taglio è proprio la perdita dei capelli. Un altro sintomo è il dolore, il formicolio all'estremità degli arti e una forte tachicardia. Così l'equip di medici si è munita di un kit per il test del taglio, che è stato effettuato sui tre membri della famiglia, e sono risultati tutti e tre positivi all'avvelenamento da taglio. I ragazzi avevano 20.000 volte la quantità normale che si può trovare all'interno del corpo umano, ma Peggy aveva 50.000 volte la quantità normale. Questo è il motivo per cui è stato detto subito che non ci sarebbe stato più nulla da fare per lei. In seguito tutti i membri della famiglia sono stati sottoposti al test per il taglio e sono risultati tutti positivi in quantità ovviamente minori. Si sarebbero tutti ripresi completamente dall'avvelenamento, ma i medici hanno subito capito che qualcuno aveva cercato di sterminare l'intera famiglia. I sospetti all'inizio ricadono subito su Pai, il marito di Peggy. I litigi tra di loro prima della morte della donna mettono l'uomo sotto i riflettori, anche perché sembrava strano che proprio il giorno esatto in cui lei è stata male, suo marito era fuori città per una battuta di caccia. Ad aumentare i sospetti è anche il fatto che Pai lavorava nella miniera di fosfato e quindi aveva facilmente accesso a sostanze chimiche, potenzialmente. Sostanze comunque abbastanza rare. Tuttavia dopo delle accurate indagini si è scoperto che Pai in realtà non aveva alcun accesso al taglio, non poteva avercelo in quanto si tratta di un metallo molto raro non presente nella miniera in cui lavorava e risultava comunque strano che lo volesse usare per uccidere sua moglie e i suoi figli. Non avrebbe avuto nessun motivo per farlo. Magari sì per sua moglie sì, ma per i figli e per se stesso perché anche lui aveva una dose piuttosto alta. L'uomo viene quindi immediatamente escluso dalla lista dei sospettati, ma durante l'ultimo interrogatorio dice qualcosa alla polizia, qualcosa che si sarebbe rivelato di vitale importanza. Tre mesi prima che Peggy si ammalasse, la famiglia aveva ricevuto una strana lettera. A suo interno c'era una minaccia di morte che diceva Tu e la tua cosiddetta famiglia avete due settimane per andarvene dalla Florida per sempre o morirete tutti. Questo non è uno scherzo. Pai non ci aveva dato tantissimo peso perché pensava che si trattasse appunto di uno scherzo e quando sono trascorse quelle due settimane e non è successo nulla, ha lasciato perdere. Dopo che l'uomo è stato escluso dalla lista dei sospettati, la polizia ha deciso di concentrarsi sulle minacce di morte ricevuta. Ed è qui che è entrata in gioco Sherry. Sherry Gwynn non era una donna del Texas scappata dal marito violento e tra l'altro quello non era nemmeno il suo vero nome. La donna in questione infatti si chiamava Susan Gorek e aveva vissuto nella Florida centrale per gran parte della sua vita. In realtà non aveva mai avuto alcun interesse a instaurare un legame di amicizia con George e Diana e l'unico motivo per cui voleva avvicinarsi a loro era perché li stava studiando. Susan era in realtà un agente di polizia sotto copertura che era stata assunta e mandata ad indagare dalla polizia di Alturas. La polizia l'aveva fatto dopo aver scoperto appunto che la minaccia di morte ricevuta dalla famiglia Carr era stata inviata da George e Diana. Si sarebbe infatti scoperto che Diana e George detestavano profondamente Peggy e Pai e i loro figli. Li ritenevano fastidiosi e rumorosi. Era già capitato numerose volte che Diana andasse dalla famiglia per dire di abbassare la musica oppure per rimproverare i figli di fare meno rumore in giardino ma Pai e Peggy avevano sempre allontanato Diana dicendo che era normale per una famiglia numerosa fare un po' di rumore. In tutto ciò diciamo che George era un po' il contrario di Diana. Lui era molto riservato e al contrario della moglie non aveva mai avuto nessun litigio con i vicini. Tuttavia era il tipo che stava spesso a sbirciare dalla sua finestra per capire quale fosse la loro routine abituale e quando col passare del tempo ha notato che la moglie Diana diventava sempre più frustrata per il rumore della famiglia Carr ha deciso di intervenire. Ha scritto la minaccia di morte e l'ha inviata alla famiglia nella speranza di spaventarli e farli andare via per sempre. Quando però ha notato che non hanno dato peso alla minaccia George ha deciso di passare alla fase 2 del suo piano malato. L'uomo negli anni 70 aveva trascorso del tempo in una prigione federale per aver cucinato delle metanfetamine. Uno dei sottoprodotti della sua produzione è di fatto il taglio. Quindi George ha deciso di riprendere le sue vecchie abilità culinarie per preparare il taglio. Ha poi messo il metallo in 8 bottiglie di Coca Cola in vetro sigillando di nuovo il tappo e ha fatto quello che riusciva a fare meglio stare dietro la sua finestra e osservarli. Un giorno mentre li osservava ha visto che Peggy e Pai e il resto della famiglia sono usciti lasciando l'abitazione completamente vuota. Così ha deciso di intrufolarsi in casa. e nascondere le bottiglie in cucina. George di fatto non ha mai ammesso il suo crimine ma ha dato diversi segnali a Susan o meglio a Sherry del fatto che l'assassino doveva essere lui. Ad esempio il metodo di omicidio utilizzato per il suo cosiddetto delitto perfetto in quel gioco nel suo gruppo di geni era proprio l'avvelenamento da taglio. Susan era stata mandata sotto copertura e nei mesi successivi era riuscita a guadagnarsi la fiducia completa di George. Purtroppo non è mai riuscita a fargli ammettere in concreto di essere l'assassino ma quando ha poi scoperto che la coppia si sarebbe trasferita ha colto la palla al balzo. George e Diana infatti non avevano portato via esattamente tutto. L'uomo aveva lasciato parecchi effetti personali nella sua cantina convinto che Susan non avrebbe mai frugato tra le sue cose. La donna però non appena è entrata in casa ha chiamato subito i rinforzi e nel giro di un'ora la proprietà è stata perquisita da cima a fondo dagli agenti di pulizia di tutto il distretto. Nel garage è stata trovata tutta l'attrezzatura chimica di George e nascosta sotto delle scatole una bottiglia contenente del taglio. George quindi viene subito arrestato e giudicato colpevole di omicidio di primo grado e tentato omicidio sul resto della famiglia. Nonostante sia stato condannato alla pena capitale l'uomo si trova ancora in attesa di esecuzione nel braccio della morte. Per quanto riguarda sua moglie Diana non è mai stata trovata nessuna prova che lei avesse a che fare insomma con l'avvelenamento. Quindi ha semplicemente divorziato da George ed è andata avanti con la sua vita. La vita di Peggy è terminata nel peggiore dei modi soffrendo e senza sapere cosa stava realmente accadendo. Tutta questa vicenda è accaduta per una semplice diatriba tra vicini di casa. Sarebbe potuta andare diversamente ma la mente geniale e diabolica di George voleva fargliela pagare a tutti i costi. In sostanza possiamo dire che lui si annoiava perché quella a cui dava veramente fastidio il rumore era sua moglie. Lui quindi ha deciso di prendere in mano la situazione nel peggiore dei modi uccidendo una persona innocente e rischiando di ucciderne altre 6. E ce l'avrebbe fatta se non si fossero accorti in fretta dell'avvelenamento da taglio. Ecco Cosa ne pensate della vicenda di oggi? Vi aspettavate che la causa dell'eccesso di Peggy fosse questa o comunque una causa simile? Fatemi sapere tutto quanto con un commento. Intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di un ragazzo che a soli 14 anni ha fatto qualcosa che ha sconvolto un'intera nazione. Spero quindi che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi vi ricordo di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!